Buongiorno a tutti, io sono Don Paolo, parlo a nome della commissione diocesana per la pastorale sociale del lavoro e sono qui per invitarvi a partecipare a questo bel progetto. Facciamo rivivere padre Marella. In occasione della beatificazione che quest'anno avverrà, l'arcidiocesi di Bologna realizzerà la sorpresa, che è un film su questo sacerdote e professore che ha posto la sua cattedra in strada, facendosi barbone di Dio, aiutando gli ultimi e che nel cuore della città ha posto una visione più ampia di conoscenza e ragione, diventando così la coscienza di Bologna. Oltre che per raccontare il valore di padre Marella, il film sarà l'occasione per realizzare un laboratorio cinematografico in cui coinvolgere tanti ragazzi bolognesi, forse non solo, in veste di attori, costumisti, truccatori. Un vero e proprio laboratorio educativo per insegnare ai ragazzi come il faticare insieme sia un'opportunità per unire le persone anche oltre il lavoro. Per realizzare il laboratorio cinematografico abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di te perché tutto questo progetto è all'insegna della partecipazione, abbiamo bisogno di te e quindi dona, dona ora, grazie al tuo aiuto più ragazzi potranno partecipare al laboratorio e soprattutto incontrare padre Marella. Dunque aiutaci a far rivivere padre Marella. Grazie.